Wewe ragazzi e bentornati! Oggi vedremo Ken Giurassico, nuovo eroe del set Dinosauro. Ken Giurassico ragazzi si presenta con il calcio rotante, gli shuriken e lo squarcio del drago. Il suo vantaggio standard, lotta di Dinosauro, mentre lo scudo è esaurito aumenta il danno abilità del 20%. Mentre invece, come vantaggio comandante, mentre lo scudo è esaurito aumenta il danno abilità del 60%. Quindi ben un 40% di differenza tra l'eroe primario e messo nella squadra. Prima di partire con i dettagli tecnici sappiate che troverete Ken Giurassico al costo di 2800 di oro nel negozio evento su Salva al Mondo. Ed è vero, al momento comunque vi consiglio solamente di comprarlo e di non utilizzarlo, a parte con qualche specifica build. Perché purtroppo Ken Giurassico, nel momento della sua introduzione sul nostro gioco, si presenta con parecchi bug del tutto discutibili. Ci tengo a precisare che comunque prendo queste informazioni direttamente da Reddit, ho testato qualcosa personalmente per avere comunque la conferma ed è tutto confermato. Ma praticamente cos'ha quest'eroe che non va in questo momento? E ci tengo a precisare che comunque in questo momento, quindi assolutamente da comprare quest'eroe. Attenzione a non metterlo nel registro o a non fare il tasto ricicla sperando che ve lo metta nel registro perché non lo metterà automaticamente. Quindi lo riciclerete praticamente per sempre. Ragazzi veramente fate attenzione perché ci avvisano anche di questo su Reddit. Il suo bug principale, diciamo, è quello di non applicare l'effetto del danno aumentato su molte abilità. Abbiamo anche una lista completa, precisamente. Il danno incrementato di questo eroe purtroppo non funziona con la tempesta di Kunai e nemmeno quella di Lynx. Non funziona col grido di guerra, non funziona con le granate, non funziona con lo squarcio del drago, non funziona con l'impatto sismico, non funziona con l'onda d'urto, non funziona col fumogeno, non funziona con lo scattotarino e non funziona con la costruzione. Fortunatamente al momento però funziona con gli Shuriken, con la Milligan, con l'Elettrotorre, con la Torretta Rosi, col Plasma Impulso, col Teddy, Destro e Mancino, Calcio Rotante e la Carica Antimateria. Quindi va benissimo implementarlo in una di queste build se avete già predisposta una di queste build. Se invece pensavate di metterla in una build, diciamo, del primo elenco, vi toccherà aspettare che appunto la Epic facci quest'eroe in sostanza. E perché vi consiglio assolutamente di prenderlo, di non riciclarlo e tenerlo da parte per il momento? Perché sicuramente è un eroe molto interessante se andato ad utilizzare con moltissime build incentrate sulle abilità. Certo è vero, in questo caso molte abilità comunque dobbiamo scegliere per esempio la Minigan se utilizzare Buone Feste oppure Ritorno di Fiamma. Perché comunque ricordiamo che questo eroe aumenta il danno abilità solamente quando non avete più lo scudo, quindi è molto vantaggioso utilizzarlo in una build per esempio con Ritorno di Fiamma. Ma a quel punto io mi chiedo, preferiamo veramente mettere Ritorno di Fiamma piuttosto che Buone Feste su molte build che abbiamo? Questo poi dipende anche molto dal modo di pensare di molti giocatori. Se per esempio invece lo andassi a implementare in una build per esempio su Scorch Drago, quindi sullo Scorch del Drago che non è essenziale Buone Feste, diciamo che il recupero è già abbastanza veloce. Molte volte magari anzi è sprecato mettere il vantaggio di Buone Feste per ottenere quei 3 secondi in più. D'altro canto comunque questo eroe potete metterlo anche senza per forza andare a utilizzare il Ritorno di Fiamma, però in quel caso il vostro bonus si attiverà solamente nel momento in cui sarete senza shield. Forse è utile magari in modalità tipo mettiti in marcia, ma adesso non saprei neanche bene. Sicuramente quello che posso dirvi è che in una build con il Ritorno di Fiamma, e ovviamente una build comunque incentrata diciamo sulle abilità, non per forza incentrata ma che può contare comunque sul danno di qualche abilità, beh, questo eroe calza veramente a pennello. Se invece utilizzato come primario, beh, se utilizzato come primario ragazzi abbiamo 3 abilità, di cui una purtroppo non sfruttabile appieno in questo periodo diciamo, aspettiamo che comunque pacino questa cosa, però in compenso sul calcio rotante e sugli shuriken possiamo comunque boostare il danno della nostra abilità del 60%, quindi magari fare una build su tutte e tre le abilità, sul recupero magari di tutte le abilità più velocemente, un po' di energia perché ci sta sempre, e puntare questa build così. Non lo so ragazzi, comunque è un eroe che va assolutamente preso, anche perché è implementabile secondo me in moltissime build, non ora ma in futuro lo sarà. Io comunque ragazzi ci tengo molto a sapere anche la vostra opinione qua sotto nei commenti, spero di avervi motivato abbastanza a non farvelo scappare ragazzi, perché ci tengo a precisare nuovamente che questo purtroppo è un glitch, o meglio un bug, dovrebbe applicare l'effetto delle abilità anche su altre build, e sicuramente verrà pacciato, però può essere tra un giorno, può essere tra una settimana, può essere tra sei mesi, e purtroppo come ben sappiamo può essere anche tra un anno. Per il momento non fatevelo scappare, compratelo assolutamente, mettetelo lì da parte, se volete utilizzarlo con abilità che per ora sappiamo benissimo che funziona, potete assolutamente farlo, sicuramente in molte build ne trarrete molti benefici, ma purtroppo in quelle che non funziona finireste solo per sprecare uno slot. Niente ragazzi, per oggi è tutto, spero che il video sia stato abbastanza chiaro per tutti, ci tengo comunque a sapere la vostra opinione qua sotto nei commenti, e noi comunque sappiate che ci vediamo domani. Bella bella!